Il comune di Castellabate registra ancora contagi, 126 nella giornata del 6 gennaio. Per questo motivo e per garantire un rientro in sicurezza agli studenti del territorio, il primo cittadino Marco Rizzo ha organizzato uno screening di massa su tutta la popolazione scolastica, un'iniziativa importante che darà maggiore tranquillità alle famiglie. Si comincerà oggi 7 gennaio a partire dalle ore 14 e poi sabato 8 gennaio a partire dalle ore 15. Vista la delicatissima situazione attuale e per consentire un rientro a scuola in piena sicurezza, il sindaco Marco Rizzo ha organizzato lo screening dell'intera popolazione scolastica, classe per classe. Tutto il personale scolastico dell'Istituto Comprensivo Castellabate, alunni, personale docente e personale ATA potranno sottoporsi a questo screening con sistema del drive-in presso Piazza Mondelli e Santa Maria di Castellabate. Sarà a cura della dirigente scolastica procedere con le convocazioni. È necessario garantire un rientro a scuola in piena sicurezza per tutta la popolazione scolastica che lunedì 10 gennaio riempirà nuovamente le scuole. Prevedere uno screening di massa per tutti è un atto responsabile e consapevole vista la situazione che attualmente viviamo, afferma il sindaco Marco Rizzo. Intanto ad Agropoli e Capaccio Pestum, territori che registrano attualmente numeri importanti di cittadini contagiati, Capaccio Pestum 400 positivi al 6 gennaio e Agropoli 318 al 6 gennaio, ancora non ci sono iniziative simili.